Una tartaruga marina della specie Caretta Caretta ha nidificato sulla spiaggia di uno stabilimento balneare di Torre dell'Orso e è accaduto nel corso della scorsa notte nella marina di Melendugno. Si tratta di un evento eccezionale perché era da 15 anni che le Caretta Caretta non nidificavano sul litorale adriatico nella costa di Torre dell'Orso. Le uova sono state depositate sotto gli occhi del custode notturno che ha assistito all'uscita dall'acqua della tartaruga che dopo aver percorso un breve tatto di spiaggia ha costruito il nido sotto la passerella del lido. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del centro di recupero tartarughe marine del Museo di Storia Naturale del Salento che hanno messo in sicurezza l'aria con il supporto degli uomini della Capitaniera di Porto. Adesso però sono tutti lì con gli occhi puntati ad attendere il lieto evento che dovrebbe avvenire tra circa 50 giorni.